Ecco qua, una palla recuperata intanto sulla tre quarti, Santini, poi proprio Paponi sulla destra, poi la palla dentro, non aventa il tentativo, il gol, il gol della Padova, il gol del Padova con Santini, Santini porta in vantaggio il Padova nella primo tempo, azione... Battuta corta di Matteo Mandordini, arriva ancora Germano, molto attivo, buono l'impatto sulla gara, il colpo di testa di Andelcovic, Santini, Santini ed è un gol fantastico, il Padova riapre la gara al decimo minuto del secondo tempo con una splendida acrobazia di Santini che evidentemente si trova a proprio agio, soprattutto in Coppa Italia, la di Santini. Rivediamo, colpo di testa, il pallone che arriva dove c'è, il numero 7, guardate che bella la sfondiciata che non lascia scampo a Terracciano. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!